Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. No raga, però ci mancherà troppo. Cioè... Che fa? No, no, vieni qua. Staserata è l'ultima dove comunque possiamo guardarci negli occhi e dirci l'un con l'altro le proprie emozioni, i propri sentimenti. Io ero più bene. Lo sapevamo che sarebbe arrivato questo momento, quindi di essere forte. E abbiamo pensato per finirla proprio in bellezza, di uscire fuori in cortile, di metterci a guardare le stelle. Cioè, mi rendo conto che c***o è volato. È un bel momento, poi con tutta l'atmosfera, dopo tutta la serata che c'è stata è cento volte più bella. Spero che in qualche modo, anche in piccolo, continuiamo a sentirci o a parlarci al di fuori da qua. Perché, cioè, a me sembra che tutta la vita che io vivo qui non mi ricordo più come fuori. Quindi, magari appena uscirò non mi ricorderò più nemmeno di voi. No, però non mi ricordo più nemmeno di voi. No, però non mi ricordo più nemmeno di voi. È davvero strano da dire, ma mi mancherete tutti. Stasera andrò a letto, ecco, un po' di malingonia. È molto, molto, molto emozionato. Cinque, otto, uno, nove, cinque, otto. Questa sarà una delle notti più belle della vita di ognuno di noi e che ci porteremo avanti per sempre. Ciao, ciao Bambi Ciao, ciao.